Io non li leggo i giornali, non mi interessano, non posso perdere tempo a leggere i giornali, quando oggi basta guardare le figure per capire che la vita fa schifo. Settembre è stato un mese terribile, è stato il mese degli stupri alle persone normali, anche ottobre è stato un mese terribile, è il mese degli stupri ai VIP. A novembre è dato un occhio agli animali domestici, che loro purtroppo non possono parlare, ma se potessero parlare chissà che scandali uscirebbero fuori. Settembre per me è stato il mese ideale, perché stupravano solo le donne, io ero uomo, a me ne andavo in giro tranquillo, tanto non poteva succedere nient'altro, parlavano solo di questo, infatti lasciavo la macchina con le chiavi appese, tanto non se la rubavano, non c'erano notizie di furti di macchine, ritiravo i soldi dal banco ma te li sventolavo, tanto nessuno mi rapinava. Era il mese degli stupri, tutto fa moda, anche nelle notizie. Adesso a dicembre è attenti ad uscire con la macchina nuova, perché è il mese dei beni confiscati, e a gennaio non state in famiglia, perché è il mese delle morti familiari. Ormai le notizie sono come l'oroscopo, tu leggi una notizia e sei convinto che ti può succedere pure a te. Adesso vi saluto, questa settimana era la settimana delle piogge, e invece c'è un sole che sto morendo dal caldo, notizie di merda.